Ci è voluto davvero tanto nei primi anni 2000 per decidere come rifare una macchina come la Fiat 500 senza deformare tutti i significati che la 500 del 1957 ha avuto per chi l'ha posseduta e anche solo per chi l'ha sognata non deve essere stato nemmeno facile capire come rimpiazzare la 500 moderna a 12 anni da quel 2007 in cui la Fiat ha saputo nuovamente emozionare con la sua piccola mascotta oggi siamo qui per testare lei, la 500 Full Collezione che segue le orme della variante primaverile svelata a marzo 2018 al Salone di Ginevra la 500 Collezione gioca ancora sul tema delle ciclicità delle stagioni e ora andiamo a scoprire questa edizione propone dunque accostamenti tipici dell'autunno e dell'inverno attraverso ricercati abbinamenti di colori inediti e di materiali esclusivi gli elementi spaziano dalla levea bricolore chiamata brunello che associa le tinte bordo opera e grigio carrara ai cerchi da 16 pollici con finitura ramata passando per i rivestimenti interni gessati per quanto riguarda lo spazio questa vettura è tra le più piccole auto da città vista la sua lunghezza di 3 metri e 57 guardate un po' grazie anche alla sua linea un po' rotondata sfrutta al massimo i suoi spazi partiamo da bagagliaio con una capienza di 185 litri che nell'uso quotidiano è abbastanza capiente mentre se si fa una gita fuori porta con amici caricando le valigie diventa un po' scomodo mentre è molto buona l'altezza del pavimento come anche il gradino di carico è anche pure inclinato passiamo nella parte interna all'abitacolo i sedili hanno una cosa fondamentale per una macchina a tre porte il meccanismo di ribaltamento con memoria meccanica della posizione di partenza che però non è automatico nel riposizionamento dello schienale se si viaggia in due i posti anteriori sono molto confortevoli mentre i posti posteriori per persone alte più di 1,75 metri la comodità in altezza non è proprio il massimo della comodità che la testa sfiora il tetto la macchina è omologata per quattro posti quindi in centro non ci si può sedere molto bene lo spazio per i piedi sotto il sedile e molto buono anche lo spazio in larghezza per i gomiti una cosa molto positiva e rara al giorno d'oggi nelle macchine piccole la tasca dietro allo schienale che è un optional però almeno si può avere dietro non ci sono bocchette dell'aria o prese lette ora passiamo alla qualità gli interni della 500 collezione ti accolgono in un ambiente elegante, comodo e da design all'avanguardia questa 500 pur essendo piccola e pensata per la città non dà la sensazione di essere un'auto troppo economica ora andiamo a scoprirlo insieme perché questa impressione viene data subito dalla plancia in tinta con la carrozzeria è bella ricca di accessori dal trattamento e al rivestimento lucido dei tasti parliamo anche delle plastiche pur essendo rigide cosa molto normale per la categoria di auto che stiamo testando sono assemblate molto bene passiamo anche ai rivestimenti ben fatti dei sedili perfetti per qualsiasi viaggio il tessuto è elegante con linee verticali in stile gessato e rifiniti in gradevole contrasto grazie al lucido vinile nero ora vediamo come è accessorata bisogna dire innanzitutto che rispetto alle altre versioni la versione collezione è il top della gamma infatti di serie troviamo dei fantastici cerchi in lega da 16 pollici neri con rifinitura in color rame troviamo anche il volante in pelle con comandi multifunzione tetto panoramico in vetro che con 600 euro diventa anche apribile uno sfizio che ci si può togliere con 800 euro su unifari all'oxeno di serie la macchina è dotata di clima manuale con 500 euro si può avere quello automatico con 850 euro si può avere il sistema infotelematico più accessoriato con schermo da 7 pollici, navigatore touchscreen, bluetooth, ingresso usb aux in, link system compatibile con apple car e android auto e speaker posteriori con 600 euro potete avere anche come optional ibeats audio system ora vediamo questa 500 collezione come se la cava in città iniziamo dalla frizione che è molto leggera e quindi ci riesce a giocare bene sullo stacco il cambio manuale è 5 marce più la retromarcia è abbastanza scorrevole perché il cambio fa un po' di resistenza nel cambio di marcia però fa capire bene quali sono i fine corsa il cambio è molto comodo essendo abbastanza vicino al volante data la sua altezza dal pavimento ce lo troviamo molto, vedete, molto vicino e devo dire che è un'ottima posizione mi piace le sue piccole dimensioni la rendono scattante e agile per le vie della città è un'ottima posizione In manovra questa 500 è molto facile da parcheggiare anche perché non c'è nessun problema a percepire gli ingombri della carrozzeria grazie anche ai sensori di parcheggio che su questa versione li troviamo di serie devo dire che le sospensioni eseguono molto bene il loro lavoro di assorbimento mentre per quanto riguarda l'assetto è molto bello anche tra le curve per il motivo che segue molto bene il terreno anche in quelle strade dove l'asfalto è distrutto la macchina rolla poco, è ben piatta e il bilanciamento dinamico è veramente buono questo 500 che abbiamo in prova è equipaggiato di un motore twin air turbo benzina da 875 cm3 di cilindrata, due cilindri in linea con 85 cavalli la coppia massima di questo motore è di 145 Nm a 1900 g lo scatto da 0 a 100 km orari lo esegue in 11 secondi i consumi sono molto molto buoni, infatti sono rimasto veramente soddisfatto perché in urbano questa 500 gira sui 4,6 litri per 100 km mentre in extra urbano siamo sui 3,4 litri per 100 km mentre nel ciclo combinato siamo sui 3,8 litri per 100 km un'altra cosa a favore di questa macchina, devo dire che l'aerodinamica di questo veicolo qua questa 500 collezione che abbiamo in prova intanto ringrazio ancora FCA per avercelo prestato e devo dire che anche testandola in autostrada e anche per le vie extraurbane o per la città devo dire che il vento non si sente per niente non si sente nessun rumore di fruscio dell'aria è veramente veramente ben fatta è veramente ha un'aerodinamica veramente buona che l'acustica del vento non si sente nemmeno ora passiamo ai difetti naturalmente essendo una macchina a tre porte e pensata per la città naturalmente le tre porte sono un po' scomode perché essendo grandi, enormi nello spazio e molto pesanti si fa fatica un po' nei movimenti, nei posti stretti un altro piccolo particolare è il tettuccio in vetro è molto bello però quando c'è molto sole certe volte fa riflesso sullo schermo della radio e anche tirando la tendina parasole non basta per il resto direi che questa 500 collezione ha superato il test drive e la consiglierei essendo una macchina molto piccola di dimensioni è perfetta per la città è per un pubblico giovanile ma soprattutto femminile voi vi starete chiedendo quali sono i motivi per il quale ve la sto consigliando naturalmente beh, partiamo dalla sua forma dallo suo stile che non lo passa nemmo osservato e dalla sua personalità diciamo che è molto divertente la 500 è dunque per certi versi assimilabile a un oggetto di moda che è stato capace però scusatemi il gioco di parole di non passare di moda a 11 anni dal suo ritorno sul mercato la 500 continua di fatti a riscuotere grande successo spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento ditemi cosa ne pensate di questa fantastica macchina io ringrazio il gruppo FCA per avermi dato la possibilità di provare questa 500 Fiat collezione e da noi ci rivediamo in un prossimo video bella musica 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 musica